Uff, buongiorno, siamo appena usciti dall'albergo e stiamo andando a Disneyland, siamo a Los Angeles e... SS eeeeee... Stiamo arrivando a video... E allora, quello... Raga, siamo quasi dentro... Raga, il castello con me... Ragazzi, siamo ufficialmente dentro... E quella è tipo una casa molto bella... E dai, ma ero serio? Si vede lontano un miglio che una stazione... Ciao zio... C'è una cellulina... Porca miseria, stavo per cadere, raga... Raga, un nuovo membro del team, benvenuto, Davide... Io a Milano il tramadio e lo prendo sempre... Questa deve essere la zona... Quello lì Peter Pan sicuro perché ci sono così gli indiani... Lì mi sa... Che è Indiana Jones, raga... Allora, Indiana Jones, 10 minuti d'attesa... Ragazzi, ho appena finito le attrezioni di Indiana Jones... La Indiana Jones è stata una roba fighissima... Il problema è che avevo paura tutto il tempo che ci fossero ragni... Ma alla fine non ce ne erano... No, vabbè raga... No, vabbè... Sono... Tutto abbagnato... Ma state zitti... C'era una mira peggiore di me su Fortnite... Why are you bullying me? Ci sono anche le... Le... Le macchine... Si chiamano Dark Ride, coglioni... Siccome i due più V che ho fatto io erano un po'... Ne prenderò uno da internet... Ho fatto la roba di Pinocchio... Sono traumatizzato... Ciao zio... Oh no... Sarò Pinocchio... Vai... Sarà traumatizzante quella di Peter Pan, vero? Come quella di Pinocchio... Come i miei capelli dopo lo Splash World... Si esatto... Voi non potete capire... No, no... 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 NON DI ANUBI NON